Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Oggi parliamo, sempre nella serie dei video in cui parlo di allergie e intolleranze, dei test farlocchi. Negli ultimi anni sempre più persone si sono convinte di essere intolleranti a specifici alimenti. In molti casi in realtà c'è solo una dieta scorretta oppure alterazioni gastrointestinali che causano disturbi che vengono spesso e rionamente attribuiti a intolleranze alimentari. Sempre più spesso ci troviamo di fronte a casi di pazienti disorientati o in sovrappeso che si rivolgono al medico convinti di essere intolleranti a determinati alimenti solo perché accusano gonfiore addominale e scarsa digeribilità. Questo lo dichiara Antonio Caretto, presidente dell'ADI, cioè l'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica. È anche vero che ci sono delle riviste che troviamo comunemente in edicola che cavalcano l'idea priva di senso che le intolleranze, sempre non meglio specificate, possono in qualche modo fare ingrassare. Un'intolleranza è, come abbiamo visto, associata comunque a una mancata assimilazione di nutrienti, quindi per definizione non può essere causa di un aumento di peso. Lo chiarisce anche un decalogo per gestire le intolleranze alimentari stilato dalle maggiori società scientifiche che si occupano del problema. Le intolleranze alimentari non sono responsabili di sovrappeso e obesità, che sono condizioni causate prevalentemente da uno stile di vita inadeguato. Le intolleranze vere sono poche e possono indurre disturbi gastrointestinali o di altro genere. Qualcuno mi dirà, ma io ho tolto il pane, la pasta, la pizza, i formaggi, bevande alcoliche, bevande zuccherate e sono dimagrito. Ma dai? E certo, chissà cosa ti scofanavi prima. E qui non c'entrano le intolleranze. L'idea di identificare la causa del proprio sovrappeso in qualche cosa di esterno, una intolleranza, invece che al nostro regime alimentare, che non va bene, è rassicurante, non ci fa sentire in colpa, però non ci porta neanche a ristabilire un modo corretto di mangiare. E io lo so benissimo perché anch'io dovrei perdere un po' di chili, ma non è dando la colpa a fantomatiche intolleranze che risolvo il problema. Ci sono poi alcune persone che hanno effettivamente delle reazioni avverse e non ho alcun dubbio che stiano davvero male, a volte, dopo aver mangiato e sono frustrate dal non conoscere l'identità del colpevole e quindi non riuscire a porvi rimedio. Magari hanno anche fatto una visita dall'allergologo che non ha riscontrato particolari allergie e una visita dal gastroenterologo e neppure lui è stato in grado di risolvere il problema. È perfettamente umano a pigliarsi a qualche test che finalmente promette di trovare la causa del problema analizzando centinaia di alimenti diversi, a volte anche solo con un po' di saliva, un po' di sangue, un capello. Se poi questi test sono pubblicizzati in una farmacia o addirittura prescritti da un medico, beh il paziente ovviamente pensa ma devono sicuramente essere affidabili, no non vorrei mica che in farmacia mi facciano un test che non ha validità scientifica. Vi leggo sempre dal documento di Fnomceo. I test in vitro di rapida esecuzione rappresentano un mercato in continua espansione e sono offerti al pubblico sotto nomi diversi e accattivanti sia nelle farmacie sia ai laboratori privati o a volte anche convenzionati. Questi test costano dai 70 euro ma fino anche a 200 euro e più e il fatto di essere un esame sul sangue genera nell'utente automaticamente la convinzione di aver effettuato un esame diagnostico di alta affidabilità e riproducibilità. Di test di tutti i tipi sul mercato ce ne sono ormai svariate decine e ogni anno se ne aggiungono sempre di più. Alcuni dei più diffusi e spoiler, nessuno di questi è valido, sono il test delle IgG, il test cicitotossico, il Hylcat, il Vega test, l'elettroagopuntura di Vol, il Bioscreening, il Biostrank test, il SARM test, il Mora test, il test kinesiologico, il DRIATEST, l'analisi del capello, l'iridologia, la biorisonanza, il PULSE test e il riflesso cardiaco auricolare. Poi probabilmente nel frattempo, mentre ho girato sto video, ne avranno inventati qualche qualche altra decina. Alcuni test dovrebbero far scattare immediatamente un campanello d'allarme. Per esempio, quando ti mettono una boccetta in mano con dentro un alimento, quindi non c'è un contatto diretto, e spingendo i muscoli gli operatori sostengono di poter dire quando una persona è intellerante o meno a questo alimento. Beh, è veramente veramente strano crederci. No, però sei disperato, non sai più a che santo rivolgerti per i tuoi problemi, ci credi. Ma avete mai visto una persona fare uno di questi test alternativi e uscire dicendo ah no, non risulta nessuna intolleranza. No, eh? Ma funzionano. Un test, qualsiasi test, perché sia valido, deve soddisfare alcuni requisiti. Come minimo deve essere affidabile e deve avere una validità clinica. Cosa vuol dire affidabile? Beh, che per esempio, se analizza lo stesso campione della stessa persona per tre volte, beh, per tre volte deve dare esattamente la stessa risposta, altrimenti da semplicemente dei valori a caso. Beh, la stragrande maggioranza di questi test che vi ho citato non riesce neppure a riprodurre i suoi stessi risultati con gli stessi campioni e quindi non valgono nulla. La trasmissione di inchiesta della televisione svizzera Patti Chiari ha fatto due servizi per mostrare come questi test diano dei risultati che si autocontraddicono. Guardate i servizi di cui vi metto il link e scoprite come il test del capello, del sangue o altri, presi dalla stessa persona e mandati con due nomi diversi allo stesso laboratorio, diano dei risultati diversi. Cioè, veramente ridicolo. In pratica questi test non misurano assolutamente nulla e danno risultati sostanzialmente completamente casuali. Un test invece che è riproducibile, quindi misura effettivamente qualche cosa, è quello delle IgG, oppure delle IgG4, quindi delle immunoglobuline. È un test in vitro, molto in voga, che si sta diffondendo molto rapidamente anche in alcuni ambulatori presso degli ospedali. Peccato che sia dimostrato non essere in grado di trovare allergie o intolleranze, indicando semplicemente una normale risposta del sistema immunitario all'esposizione di un certo alimento. Quindi misura qualche cosa, certo, ma misura una cosa del tutto inutile, dal punto di vista delle intolleranze o delle allergie, ed è quindi senza validità clinica. Ci sono vari documenti di società scientifiche internazionali e studi scientifici che raccomandano i medici di non usarlo e i farmacisti di non offrirlo perché è inutile. E addirittura qualcuno, qualche studio, paradossalmente, suggerisce che ci potrebbero essere degli indizi che le IgG in realtà potrebbero in realtà misurare la tolleranza a un alimento dopo un'avvenuta esposizione e non un'intolleranza, pensa te. Capita anche che qualche pubblicità di questi test citi degli studi pubblicati che dimostrerebbero che il test dell'Igg è efficace. Ricordate quello che vi dico sempre, che il singolo studio non significa nulla, sono stati pubblicati studi fatti male, studi senza gruppo di controllo, non randomizzati, senza placebo e andando a valutare una quantità talmente grande di sintomi che per puro caso qualche cosa si trova sempre. Quindi in realtà, se andate a vedere, c'è sempre qualche articolo che si può citare a favore di qualche ipotesi per quanto sia bislacca, ma in realtà non hanno nessun valore. Insomma, a oggi non esiste alcun test in grado di fare uno screening di massa di decine o centinaia di cibi in una volta sola per scoprire se voi siete intolleranti. Le persone che stanno male e non ne capiscono il motivo sono un gruppo molto vulnerabile e gli operatori della salute, quindi medici, nutrizionisti, farmacisti e così via, non dovrebbero incoraggiare l'uso di test senza nessuna validità scientifica che, oltre a costare un sacco di soldi, rischiano anche di limitare notevolmente, senza alcun motivo, la dieta delle persone. Perché avete visto i risultati di questi test? Cominciano a dire sei intollerante al glutine, ai latticini, al pomodoro, all'olio d'oliva, a questo, a questo e quest'altro e alla fine rischi di avere veramente una dieta molto sbilanciata. Oltretutto questi test, se seguiti, rovinano anche una vita sociale regolare. Se io invito degli amici a cena e tu mi dici che il vega test ti ha detto che sei intollerante ai lieviti, al pomodoro, all'aglio, al saccazzolo, all'olio d'oliva, agli ungulati, al burro di yak, rompendo sostanzialmente le palle a me che devo cucinare per tutti, beh, stai tranquillo che la prossima volta non ti invito più. Visto che spesso questi test vengono prescritti da medici è opportuno qui citare l'articolo 6 del codice di deontologia medica che dice che il medico fonda l'esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali su principi di efficacia e di appropriatezza aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili, mentre l'articolo 13 dice che la prescrizione di un esame deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili e queste, come vi ho detto, dicono che questi test sono la fuffa e quindi i medici non dovrebbero prescriverli e le farmacie, nella mia modesta opinione, non dovrebbero offrirli. Quindi i test non funzionano, va bene, ma questo significa che tutte queste intolleranze non esistono? Si può escludere che qualcuno sia intollerante a, che ne so, la barbabietola o gli asparagi? Intollerante, eh? No, ci possono benissimo essere dei casi di reazioni avverse specifiche per alcune persone. Io per esempio so che se mangio troppa salsa di pomodoro, mi piace, l'adoro e a volte faccio poi la scarpetta quindi ne metto molto di più del necessario per condire la pasta, beh se esagero tempo un'ora devo scappare in bagno e questa è la mia reazione avversa. È un'intolleranza? Non lo so, potrebbe essere magari una reazione ai salicilati contenuti nel pomodoro, in ogni caso non esiste un test diagnostico che mi possa rivelare questa cosa. Quindi se già siete convinti di essere intolleranti a un alimento specifico, rivolgetevi a un medico allergologo o a uno specialista. Tuttora l'unico modo affidabile per verificare se esiste un'intolleranza è escludere i cibi dell'alimentazione e poi reintrodurli idealmente senza che uno, diciamo, senza che il paziente lo sappia per non ve li ne influenzate, però insomma è un po' difficile, ma reintrodurli in modo controllato per verificare se appena si reintroduce quell'alimento si ripresenta sistematicamente il disturbo. È quello che viene chiamato il test di provocazione orale tipo O. Posso capire che non sia molto piacevole però questo è il meglio che si può fare per ora. Negli ultimi anni stanno andando in voga molto anche i test genetici per le intolleranze. Valgono qualcosa? Beh, abbiamo visto che per la cigliachia e l'intolleranza al lattosio la genetica ci può essere d'aiuto perché c'è o non c'è una particolare mutazione. Tuttavia per le altre generiche intolleranze, non essendo neanche definite in modo preciso. Non può esistere un test genetico che faccia uno screening generale e ci dica che uno è intollerante a questo, a questo, a questo, a quest'altro. Arrivederci sul canale primo o secondo del vostro amichevole chimico di quartiere. Ciao!